Saluto gli ospiti, ringrazio subito Albano e Ron che hanno accettato volentieri di presiedere questa conferenza stampa, saluto Carlo Conti il nostro mattatore e oggi ringrazio accanto a me il capo struttura di Rai 1 Angelo Mellone. Le parole da spendere sarebbero tante ma l'unica cosa più importante è il fare, molto più del dire e noi faremo una grande serata con la certezza che questi fondi arrivino non in fondo ma in alto per poter costruire tutto quello che c'è da costruire ma soprattutto senza mai dimenticare quel termine fantastico che si chiama umanità. Ciao a tutti, voglio invitarvi a donare in questa occasione meravigliosa prendendo il telefono e digitando il 45515, grazie. Beh questo è il numero, non so se puoi arrivare, il 45515, questo è il numero più importante della serata al di là dello share dei milioni di spettatori ma è questo perché il numero che conta è questo e che conta la raccolta fondi. Con il cuore e con il cervello facciamo questo appello, date al 45515 quello che è giusto dare, quello che pensate che sia giusto dare ma soprattutto date.